Andiamo Ah viene pure la piccola Lea eh La piccola Lea? Non pompecoglioni Ho detto che lei bazzicava nei campi del tormento di solito Quando era piccola Ma dico io che cosa bazzicava i tempi Nel campi di tormento E tu conosciamo i tempi Tu c'hai le tette, io no Ti vuoi dire che siamo diversi Ah ma anche molte altre cose Piuttosto inquietante Un attimino più impostato Potrebbe fare il DJ il tuo personaggio Non lo so Sì probabilmente Eh quanti Eh Due personcini a casa Oh C'ha due Oh bello Fa un po' di eventà un po' fighe finalmente Ne ne ho anche uno scudo Oh oh forziere forziere Niente Ho corazza di ghiaccio Protegge il mago con una barriera di ghiaccio Che raggela gli aggressori Eh sì Nel senso per tipo per le battute Per la battuta ci vengono raggela Le classiche battute Sì 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 Assolutamente sì Allora Facciamo un po' fuori Il nido appestato Facciamo un altro odore Imbarazzante Intanto entra Mirko in In Airstone Mirko 700 saluta Ciao Mirko Ti sei Mirko Sì Ma ci vuole regalare delle leggendari Adesso eh Quindi Sì 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 Ma io ho benissimo Mirko Ti amo tantissimo Mirko No no Vogliamo sentire la tua storia Di quando eri bambina Sparati Da sola Con l'arco Sparati Ah Vecchio Vecchio molino Chi è? Aiuto per favore vogliono uccidere la mia amica E sti cazzi? Non ce l'ho menti Da uno che si è presente dice Chi sei? Sono Lettofante Cioè Lettofante è una parola che non sentivo da Più o meno dal 32 Più o meno Non era ancora nato Però Già non si ascoltava già lì Era già un po' kitsch Sì 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 Dai forza Apri sta porta Non ti ha abbandonata Consegnacela Non ti ha abbandonata È qui La 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 Quindi? La 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 Qui appartiene a lei Vedi davvero alle parole di questo furfante No è lettofante no furfante Mettiamo i puntini su lei Le differenze È intanto una bell'gallina là che vaga Poi la vado a uccidere dopo io Tranquillo tranquillo Non ha vita Lunga Ma Tu cazzo è andata a finire? Eccolo qua Ok Ma io non l'ho capito È tipo Pirata e Corsaro Brigante alle stoffante Non so È più Brigante o più le stoffante Non so bene Cosa è più dei due? Ma Sarà più brigante Credo Allora Andiamo giù qua Tanto questo È già durato tantissimo Mi hanno detto È morto? Direi di sì Basta Non finisce qui che ti abbiamo saccagnato i botte Ci stanno scheletri per terra Quando c'è dei corpi Oh ok Cagato 3300 punti esperienza 1450 monete E un po' di roba E una Una tra l'altro Bianchissima Bianca 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 è una merda Ma era proprio bianca 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 Proprio È più bianca del bianco Era da con Per l'ara Sì 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 Ma era super bianca Quindi ho detto Magari è figa Che ne so Ma sì Globico Ma credo che cazzo fanno quelli bianchi Fanno esperienza in più Buona roba del genere De luce E bambini Sì Ma certo mia cara Presto ci sistemeremo in una Ah è vero Gloria dei Nephilim Ah vabbè Prima devo vendere la reliquia Eh certo Mi toccherà allontanarmi con il mio amico Eh certo Oh che peccato Daca corta avventurosa del ferimento È una merda proprio Cioè vabbè Il camaglio rettile della concentrazione Per dire eh Sapessi cosa è il camaglio Ma noi La reliquia è falsa Ma pensa Sembra che tu abbia bisogno di una mano E per me non è certo salutare E rimanere da queste parti Scappa scappa Bravo bravo Via via Vieni con noi Che intanto poi non ti usiamo Porta il lessofanto No così Diciso lui che viene Ma sì No di qua no Oh è rotto Di qua niente Via super il tempio sommerso Ah eccoti qua Eh ma qua eravamo Ah no Sì Vai parlare con sto qua Tua fidanzata Fidanzata Ti sembro il tipo che si sposa A proposito Mi ricorda qualcuno Ah con te sta parlando Eh Dicono su Alary che questo tempio non è incoraggiante Vabbè Tanto Novo seguace E seguace va in città eh Con calma Vabbè rimani in lato No no arrivo No arrivo No arrivo No arrivo No arrivo No arrivo No no Non mi vedi No È un millennio che non ci sono più nefili Tanto piove Il diablo qua mi sembra di capire Cerchi l'ingresso di questo tempio Ma solo un nefilim può entrare E otterrai le chiavi dalle tombe all'esterno E le userai sulle torte Vedremo Ma perché su sti giochi per apri la porta bisogna trovare le chiavi Che sono state forgiate dal fabbro Che sa scappato volcola bugia Il mercato mio padre compro È una cosa semplice C'è Cerca due tombe Nei boschi sull'altra sponda Due tombe Ok Ma tu perché vai in giro con un libro in mano fra l'altro Cioè non è carino Hai visto? Come sono figo Ma che cazzo O salchindo Che cazzo C'è ancora qui Eh ma io sono amante della carta E poi fa molto 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 culturato Delettore Delettore strucco le colonne io Per dire eh Allora su di qua cosa c'è Ci sa che ci siamo di via Oh 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 Un attimo un attimo Porto degli amici Porto degli amici Attenzione Ma quello di so era Mikis che lo diceva No si era Mikis Però anch'io l'ho detto molto spesso Molto spesso In War Z ad esempio Lo dicevo molto presto Molti spaventi per null Era luminoso Era lì che si muoveva Era grosso Luminescente Mi sono cagato addosso Intanto le mie due nuove mosse fighe Aiuto Oltre che le botte Anche il raffreddore Sconocchialo A pugni Poi ovviamente Cazzottone è proprio Mosso da mago Certo Vero eh Cosa Ma io sono un mago Da battaglia Fratello È rimasto così Praticamente È fatto partire Il gridato È cominciato a gridare Poi Ficcato un pugno Nello stomaco Così È morto Appena con ha detto Rispingiteli È morto Sì Non è riuscito neanche a finire La frase Che è scritta lì sotto Cerchiamo Troviamo sto posto Sto sepolcro Della cipa Sì Anitanto tira delle frecce Tira Sì le ha È informa Non è convinta Ma è vera A me sembra abbastanza Cecchinata Cioè Cecchinosa È Portata dallo spirito Della madre Dall'anima Della mortaccia Dall'anima Della mortaccia Questo aspetta Andiamo qua giù? Scendiamo Scendiamo La crypt degli antichi Cittadini antichi È la crypt Giusta Per il coso Si ha capito Solo qualcuno Potesse vedermi Adesso Se solo qualcuno Potesse vedermi Allora Credo che mi divertirò Legione Il disarmonico Che ha Come abilità Mortaio Ma Mortaio Spara ovunque O spara ovunque Qua Ovunque Non tranne da noi Infatti non è un po' troppo vicino Si Avesse visto che ha un'abilità mortaio Dovrebbe stare un po' lontano Tipo per esempio Ma è meglio per noi Nel senso Non è che Non mi formalizzo Io Se vuole prendere botte Va benissimo È leggendario Tra l'altro Sì sì E là si dà Launcho delle freccette Qua intanto Tra l'altro Io non è cattiera A me si sente le freccette Non mi pare Poi questo gioco Così difficile Tutto se te ci alleni Per otto ore al giorno No Ma guarda che C'è gente che ci guadagna Un sacco di soldi Eh Ma no Cioè Bisogna Centrare sempre Il solito punto In alto Sì che dipende Quello per tre Prendi Sì esatto Devi fare venti per tre Il cento quanto è? Cinquanta Mi pare Cinquanta Quindi non ci guadagni mai Quindi devi prendere Quella striscettina In alto Ma non troppo in alto Andiamo un attimo giù Che c'è qualcosina Andiamo giù Andiamo giù Ma ci sono tornei Cioè ci sono tornei Che ti fanno fare Milioni e milioni Milioni Adesso anche negli stati Lo fanno Ubriachi Pradici Addirittura Sì 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 Migliaia di persone Che bevono Birra Continuazione Forse è quella la difficoltà No 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 Loro non sono ubriachi Ah no Però sarebbe carino Se si spiegassero come delle mele E sarebbe abbastanza divertente Abbastanza divertente Tra l'altro sono anche Ho visto Sono anche proprio Vicini vicini Al centro Quindi Anche perché non penso Che sia Oh Oh Intorno alle freccette Cioè voglio dire No Sì non c'è questo Questo spettacolo Infatti loro bevono Come delle merde Poi scrivono Delle cose strane Sui fogli E quando arriva Il 180 Esultano un po' Ma Ma bene E poi Voglio provare La sopraffazione Adesso Non so perché Sopraffazione Sopraffaglielo 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 Mi piace Sì 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 Mi piace Oh 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 Piano No 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 Ho congelato Oh 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 Via 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 Mi curo La prima volta che uso Una pozione E oggi In tutto il gioco Ma sei morto? No 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 Sono vivo Sono vivo Ho usato una pozione Perché mi stavano sconocchiando Ma di brutto eh E ci hanno congelato Il bastardo Eh sì infatti Proprio del congelamento Azionismo Vabbè è difficile Almeno Almeno quello Eh vabbè Almeno sì Almeno Un pochino Un pelo Giusto un pelo Di sfida Ho passato molti anni a studiare luoghi come questo Con Zio Deca Non ti ricordi? Non ti ricordi? Certo Mi ben ricordi Quando veni stumperato dagli scheletri urlanti Non è che è l'attenativa dal torneo di freccette Cioè Ah vedi Però credo che sia meglio il torneo di freccette Obiettivamente Non so Finire a guadagnare milionate di torneo di freccette Guadagno no? Eh certo Quindi guadagno Più dei bravi youtuber Eh sì Anche molto più dei bravi youtuber Guarda Molto di più dei bravi youtuber Molto Oh ecco ecco Questo? Questo? Vai 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 Sconocchialo 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 Aspetta che te lo congelo Ok Beh mi hai fatto fare malissimo Tanta roba Tanta roba Tanta roba Tanta roba Un po' E un po' C'ho una massetta Do questa che è per mago Tanto non ci posso fare niente Dagliela Vai dammela Presaga Che cazzo è presaga? Maschera da viaggio presaga Presaga Ah è presaga Eh Hai capito? È una maschera che fa vedere gli eventi che sono successi prima Quindi è presaga Eh certo Punto Se no Avesse avuto un'altra vocale Ma al contrario sarebbe stata la preparazione ad un'altra cosa Questo posto Oh Un corridoio Oh quanto sono tosti questi Sono anche discretamente forti Oh ci stanno a sconocchiare Vabbè perché tanto No Vabbè ora Sconocchiare no Perché non stiamo subendo alcun danno Però ci vogliono 6 ore a farli fuori Che è già una cosa buona Eh che cazzo Dai Dai Finisci lì Questi messerini Schifosi Sti ritornati Si ripropongono Come Come la peperonata È stato duro? È stato lungo È duro Come Ma io? No Uno Lungo e duro Come disse Che ti è salti Come fare Ma sì Lumi collocati sui piedi stalli Ovviamente non qui Ok Andiamo torniamo Ok sì Dobbiamo tornare indietro Spade per terra Sacco di spade per terra Quindi ora Dobbiamo tornare A Poi collocare il piedi stalli I rovi Spoco del guerriero Spoco del guerriero Ma sti libri parlanti Ma so Kido La roba tecnologica C'è Se sono gli autolibri Perché mi Odio libri So quindi Non sono libri Sì C'è Sì Sono quelli che in America Cercano da tempo Per impedirlo Adesso Ultimamente Ci sono Ultimamente Ai tempi di Diablo Invece Erano già Ben integrati Ma questa accetta Che io C'è tiro giù le colonne La accetta Di diamante Odio si diamante Eh sì Vero Minecraft Hai visto che bello Il posterone Che ti ho mandato oggi Sì 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 Molto bello Era parecchio a figo Sì Sì Sai che lo lo ho quasi prende Per 7 euro 7 euro Perché non l'hai preso Scusa Eh non c'hai passato Metterlo Ah vabbè Allora Allora se non c'hai posto Dove metterlo C'era quello E quello Figo De Walking Dead Ma cosa Con tutto il cast Bello No Proprio Il classico Cosa di Rick Con la pistola spianata Tanto 7500 146 punti esperienza Recevuti Eh sì A me è 7218 Perché Perché tu citi i giochi Ecco Come al tuo solito Come al tuo solito I droghi Quanto che cade Forza Non vorrei che Quello lì lo infondo Mi sa che la vedo male Lo vedo che ci sconocchia Con fido di no Tanto Roba così Azzurra Roba blu Che non ho letto Fondamentalmente Questo cos'è Super epico Turbo Minchia Power Non so Mi ricordo più cosa Viola Serve più potere al cane Mi serve più potere al cane E mori No 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 Eh finito Oh Oh O altre due Uh Fratello Morella Rell Giorella No so più deboli però Fratello Fratello Cane Fratello Sorella Luna Fratello Carella Noi fratello Carella Siamo fuori Facciamo un fratellicidio generale E leviamoci da qua Velocemente Ci sta Mi hanno fatto tipo Dieci danni eh Finora in tutto Tutti e cinque i fratelli Di sta ceppa Certo pure io c'ho C'ho un'abilità che dice Sì sì C'ho un'abilità che dice Instilla paura nei nemici Ma so scheletri E' un po' difficile che la trovi Tremolo Rossa E guaglia quella Dei nostri più grandi campioni Hai idea di cosa potresti essere? No Puoi entrare Nel nostro luogo più sacro Così dai la chiave E tutti gli stronzi che passano Anche se non siamo né Filtrum Sì Guarda guarda C'è un'amica C'è un'amica Sempre la Magda Magda? Ma se io prendo l'autostrada Ritotto dopo Che si Ma che è che è? Cosa era? Cioè Che si è suicidata Lanciandoci giù dalla finestra? Però questa è con l'H È Magda con l'H Ah ok 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 Sembra che si è lanciato giù dalla finestra Era tipo la Pivetti Mi sembra Ancora Non mi ricordo più Nel bagno Ok No? Non pensare fosse la Pivetti Dove non chiedere a Luke che è esperto di queste cose Ma mi sembra di sì Come pare però la Pivetti Sì? Non ho una pochia idea Vabbè farò lo stesso Può che Magda 8.050 pie Giocando con me 3.900 pie Andiamo tornando subito da azione Poi 3.050 Anzi 8.050 Ah ok 3.920 E sono i soldini Sono i soldini I nostri figli nascono Quindi usiamo il portale Direi di sì Andiamo da zio Deckard Ciò che abbiamo trovato Andiamo da zio Deckard Addirittura Gli inferi infiammeggiati Tanto andiamo allo straniero Abbiamo il secondo frammento della spada Yes Dove devo cercare il terzo Ricordo una luce Dirigersi verso E vabbè Che c'è ora Quanti viaggi dei pescatori C'entrano sulla costa Là Uno No Ottimo Mia cara Lea Fatevi portare lì Dal traghettatore Non vieni con noi? No Infatti sono a metà a letto No